Namaskar, benvenuti tutti. Namaskar a tutti. Ok, adesso ci prepariamo per per la lezione di oggi che è la numero 4 e per iniziare oggi facciamo una revisione di quello che abbiamo parlato. Io posso partire un po' con la prima volta, la prima lezione, lezione, abbiamo parlato della Stanga Yoga. Perché? Perché volevamo darvi come una mappa dello yoga, una visione più integrale, dove entra la meditazione, dove entrano altre pratiche, perché è tutto un sistema completo. Quella era la nostra idea. Sicuramente molte, molte di quelle pratiche dobbiamo ancora parlare. L'idea è che si impara gradualmente e dopo uno, a misura che impara, mette in pratica. Questa è l'idea. Perciò bisogna dare anche il tempo di mettere in pratica, di sperimentare, prima di passare avanti. Ok, così la Stanga Yoga aveva quella idea. Dopo abbiamo passato più in dettagli e faccio un po' la parola Kamal Eswar, parla un po' di… vi ricordate un po' dei dettagli di cui abbiamo parlato? Avete… perché il Dada poi ci interroga, alla fine, se volete, il diploma di grande yogi. I grandi yogini, yogini è in femminile. Yogi maschile, yogini in femminile. Noi abbiamo fatto la zoomata su Giamani Yama, se vi ricordate, è vero? Quando si fa l'acharya training, si stanno settimane solo su questi due argomenti, settimane intere. E anche il nostro discorso che approfondiremo poi con la prossima volta sul karma, è molto importante capire che la nostra etica, la nostra azione comporta delle reazioni. Ecco perché Giamani Yama è così importante. Senza Giamani Yama lo yoga è impossibile, meditare profondamente è impossibile perché la mente è costantemente disturbata da vibrazioni che certe volte non servono. Abbiamo visto per esempio quando si accumula troppo, alla fine sei occupato con quella cosa che hai accumulato, sei schiavo, per cui non puoi concentrarti profondamente. Ecco questi dettagli ovviamente ci sono tanti esempi, tanti giorni, si possono fare anche dei giochi e ovviamente siamo un po' limitati anche dallo schermo. Ovviamente quando appena possiamo rivederci sicuramente le cose saranno molto più empatiche dal punto di vista fisico. Ma è importante, come diceva il Dada, assorbire un po' alla volta questi concetti che vengono dalle pratiche. Prima è nata la pratica e poi sono nate le filosofie o i concetti perché sono esperienze intuitive. Bene. E dopo del Giamani Yama abbiamo visto il mantra. Il mantra è un aspetto molto importante, diciamo fondamentale, è una delle basi della meditazione. Ci sono vari vantaggi di meditare con mantra e abbiamo spiegato un mantra universale che noi utilizziamo Baba Nam Kevalam. L'idea Baba sarebbe di amore, amore universale, quello che noi amiamo di più, l'entità più amata. C'è questo sentimento, dobbiamo addizionare al mantra perché possa avere più forza, più effetto, l'idea di amore. Amore è una delle forze più grandi di questo universo, possiamo anche dire la forza più grande dell'universo. Nam vuol dire che esiste, è qualcosa che non è astratto, però esiste. Ekevalam, che solo quello esiste, niente altro. E quello sarebbe l'ideazione durante la meditazione. Con il mantra abbiamo consigliato di fare la meditazione tutti i giorni. Questo mantra si può usare cantando a voce alta, si usano le corde vocali, si ascolta, si sente il mantra anche nel corpo e tutto. E dopo in silenzio, nella meditazione profonda, in quanto il corpo non funziona più, gli occhi sono chiusi, tutto. Solo internamente. Noi consigliamo abbinare tutti e due, ossia fare un po', all'inizio si canta e dopo si fa in silenzio. Questo sarebbe un mantra universale. Dopo, come abbiamo detto, la nostra pratica ha vari passi. Dopo passiamo a lezioni con un mantra personale e ci sono varie altre lezioni che aiutano e queste le diamo individualmente. Bene, a questo punto volevo fare un po' di meditazione, facciamo un po' di meditazione insieme, prima di entrare nel soggetto di oggi. Per questa meditazione ho una meditazione preparata da un amico che vive nel Canada, è un musicista e lui cosa fa? Suona il mantra per due minuti, dopo rimane in silenzio solo con un sottofondo e dopo fa un altro giro e un terzo giro, tre giri, circa 12-13 minuti. Così noi possiamo cantare insieme quando sta cantando e dopo in silenzio, quando c'è il silenzio e ripetiamo questo tre volte. Così facciamo questo prima di... E riguardo il link di tutte le volte è sempre lo stesso, è sempre lo stesso il link. Ok, adesso facciamo la meditazione. 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Tantra. Grazie a tutti. pulito. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Mantra. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. So, Grazie a tutti.